L'Ido Saturo, Leporano Taranto. Una bella domenica di sole in spiaggia, una domenica praticamente estiva, una domenica di civiltà e senso civico. Gli amministratori di Leporano, l'associazione Plasticacqua, insieme a numerosi bagnanti, hanno provveduto alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia dell'area, operando una raccolta differenziata. Come vedete dalle immagini molto impegnati, gli assessori al turismo dottoressa Iolanda Lotta e all'ambiente Elena Galeone. Un modo ed un'occasione per far sì che le istituzioni diano il buon esempio al fianco dei cittadini per difendere il nostro ecosistema. Gesti di grande valore educativo. Avanti così!